buongiorno benvenuto al tuo esercizio di allineamento mente corpo oggi eseguiamo un esercizio per la muscolatura oculare che è particolarmente importante perché è compresa nel circuito che regola l'equilibrio e la postura adesso comincia a respirare profondamente se hai bisogno chiudi leggermente le palpebre e cerca di trovare un ritmo respiratorio regolare profondo comincia allo stesso tempo a strofinare il margine laterale della tua mano destra se sei destro della mano sinistra se sei mancino e a respirare profondamente cerca di raggiungere un ritmo respiratorio regolare profondo e quando l'hai raggiunto puoi smettere di strofinare la mano e concentrarti sulla tua respirazione concentrati sulla tua respirazione in particolar modo all'inizio specialmente all'inizio sulla tua fase inspiratoria cioè quando l'aria entra all'interno del tuo corpo pensa solamente all'inspirazione e poi lascia andare l'aria fuori inspira pensa all'inspirazione e lascia andare adesso come ti dicevo faremo un esercizio per la muscolatura dei tuoi occhi pensa ai muscoli laterali dei tuoi occhi a cui muscoli che permettono il movimento sul piano orizzontale dei tuoi bulbi oculari per il movimento che va da sinistra a destra e da destra a sinistra pensa solamente alla funzione che hanno questi muscoli cioè quella di muovere i tuoi bulbi oculari da un lato e dall'altro lato continua a mantenere la tua respirazione regolare profonda e ora comincia a spostare gli occhi da destra a sinistra e da sinistra a destra e cerca di eseguire il movimento evitando di eseguirlo in modo automatico cerca di percepire quello che il movimento ti trasmette espandi la tua capacità di percepire espandi le tue sensazioni e mantieni il tuo ritmo respiratorio regolare e profondo puoi eseguire inizialmente questo movimento per 20 ripetizioni poi puoi portarlo a 50 ripetizioni fino a 100 ripetizioni bene così continua ancora per qualche secondo bene ora termina l'esercizio pensa all'esercizio che ha eseguito e alle sensazioni che l'esercizio ti ha dato e porta le tue mani davanti al petto respira profondamente e immagina una luce che esce dal tuo petto e si espande piano piano avvolge e avvolge tutto il tuo corpo questa luce che ti avvolge ti circonda e percepisci la sensazione di benessere che questa luce ti dà ciao ci vediamo al prossimo esercizio